Parliamo di scarpe. Questo è un paio di scarpe. Le scarpe possono avere i lacci. Da questa parola derivano i verbi allacciare o allacciarsi le scarpe e il contrario, slacciare o slacciarsi le scarpe. Questa è una scarpa allacciata. Questa invece è una scarpa slacciata. La parte della scarpa che poggia a terra è la suola. Le scarpe possono avere un rialzo nella parte posteriore. Il tacco Vediamo alcuni tipi di scarpe. Le scarpe da ginnastica. Le scarpe con tacco alto. Le scarpe con tacco basso. Le scarpe classiche da uomo. Gli scarponi. Gli stivali. Gli scarponi. Gli bambini. Gli bambini. Gli bambini. Gli zoccoli Gli infradito o le infradito Le pantofole Gli infradito o le infradito